Professor Gaspari, il Fermo e Lucia ha una pagina dedicata al Beato Parroco di Chiuso. Di che cosa si tratta? È una pagina nella quale il parroco viene anche nominato esplicitamente e Manzoni lo presenta come un esempio, un modello di virtù cristiana a confronto con Don Abbondio. Siamo nel terzo tomo dell'opera, è il momento in cui è avvenuta la conversione dell'innominato e bisogna in qualche modo affidare Lucia le cure di un personaggio che dimostri anche una qualità superiore a quella di Don Abbondio. Mentre il cardinale convoca i curati ecco che compare il parroco di Chiuso ed è anche un vistoso anacronismo perché il parroco di Chiuso muore nell'aprile del 1822 e il romanzo è ambientato invece, siamo nel 1629 quando avviene questo fatto. Ecco quindi che siamo di fronte a uno dei casi rari, forse uno dei casi credo che rappresenti in sé una vistosa eccezione in cui Manzoni realizza proprio un errore, un falso storico, naturalmente in maniera volontaria. Perché poi scompare la figura del Beato Parroco di Chiuso? Quello che possiamo pensare è che Manzoni dalla sua giovinezza, passata intorno a Lecco, nelle comunità del territorio, alla Valsassina eccetera, fosse entrato sicuramente in contatto direttamente col curato o con qualcuno che lo conosceva, quindi ne avesse notizia. Abbiamo una lettera del resto del curato a Manzoni del 1811 in cui Manzoni viene pregato di un favore, di un favore che è praticamente una carità cristiana, quindi mostra che c'era consuetudine, la conoscenza diretta è documentata anche attraverso la lettera, se non per altro. Quindi per Manzoni quello era un curato santo sicuramente. Nell'aprile del 1822 il curato muore. Manzoni ha la notizia e Manzoni probabilmente è arrivato a questo punto della stesura del romanzo ed ecco quindi che gli viene in mente di realizzare questo anacronismo. Quando scopre che l'anacronismo è pesante ci sono stati dei lettori del romanzo che hanno anche postillato dando i loro pareri di lettura, ecco che diranno che questo discorso tiene fino a un certo punto ed è la ragione per cui Manzoni probabilmente lo toglie dalla edizione definitiva. Lei ha citato una lettera del 1811. Ecco, Don Serrafino Morazione quando scrive questa lettera a Alessandro Manzoni la indirizza alcaleotto e la proprietà dei Manzoni a Lecco, la proprietà del padre di Manzoni, Don Pietro. E il prete cita letteralmente il padre di Manzoni, cita Pietro Manzoni nella lettera. Possiamo dire quindi che la consuetudine era sicura con la famiglia, con Pietro in particolare e poi è arrivata evidentemente anche ad Alessandro ed evidentemente il curato sapeva di rivolgersi a persona che poteva anche dargli in qualche modo una risposta positiva, credo.